Allora, come avevo detto, volevo ampliare un pochino sulla questione dei neutrini, anche perché naturalmente è una storia molto divertente, molto interessante, come, diciamo, partendo dalle idee originarie di Fermi e di Paoli prima, ma più precisamente di Fermi, si è riuscito a sviluppare tutta una branca che si chiama la fisica del neutrino e che anzi, diciamo, a un certo momento ha a che fare con lo studio dell'interno del Sole. Quindi questo è più o meno il sommario e vi racconterò come dalle prime idee su come osservare i neutrini si è arrivato poi agli ultimi esperimenti sulle oscillazioni dei neutrini. Allora, subito dopo la teoria di Fermi, era chiaro che il neutrino poteva avere un'interazione con la materia di questo tipo, un neutrino di abbastanza energia, abbastanza elevata, incontrando un neutrone e lo trasforma in un protone e da un elettrone. E quello che si chiama il decadimento beta inverso. E beta e Pyers, conoscendo la costante di Fermi che era stata determinata dai decadimenti beta, calcolano quant'è la probabilità di questo processo e scoprono un risultato molto scoraggiante. loro lo formulano in termini del percorso medio, la distanza che bisogna avere per avere probabilità 1 di interagire. Cioè quant'è il cammino al di là del quale il neutrino viene assorbito. E immaginano di mettere questa cosa nel ferro, densità 5 grammi per centimetro cubo, che è una sostanza piuttosto densa. E calcolano che per essere sicuri che il neutrino è assorbito deve percorrere circa 10 anni luce, che non è certo un risultato incoraggiante. Detto in termini di probabilità, se voi avete un neutrino attraverso un metro di ferro, la probabilità che interagisca è 10 alla meno 17 se l'energia è data in MEV. E circa, diciamo, l'energia dei neutrini prodotti nei decadimenti beta è circa un MEV. Questo è il risultato di Bete e Pyers e questo risultato viene interpretato dicendo va bene, il neutrino è inutile che ne parliamo, va bene? E lì finisce la storia. In realtà la storia non finisce perché nel 1947 Ponte Corvo, che era in Canada, realizza una cosa abbastanza ovvia, cioè sì, la probabilità del neutrino di interagire in un metro di materia è astronomicamente piccola, ma il numero di neutrini che vengono fuori da un reattore nucleare e che sono dovuti al fatto che i neutroni in volo decadono è astronomicamente grande e quindi il numero di interazioni che posso guardare mettendomi nei dintorni di un reattore nucleare non sono per niente trascurabili. Questo è l'argomento di Ponte Corvo. Ponte Corvo va avanti e inventa il metodo radiochimico di cui vi ho parlato, cioè il neutrino trasforma il cloro in argon, io estraggo l'argon, misuro la radioattività dell'argon e intanto determino che effettivamente è passato un neutrino e poi posso determinare il flusso di neutrini. Ponte Corvo ne parla con Paoli, che era interessato, Fermi non è interessato e l'interpretazione di Segre era che Fermi non era interessato a delle cose che ci sarebbero voluti decenni per svilupparle e in effetti il sistema radiochimico ci ha messo circa 20 anni per arrivare, più di 20 anni per arrivare a maturità. Segre Fermi non era su quella lunghezza d'onda. Nel 1953 invece Reins e Cowan propongono un altro metodo per rivelare il neutrino che è un metodo di osservazione delle interazioni non col metodo radiochimico ma sempre utilizzando un reattore, il reattore di Savannah River. Fanno un rivelatore che per quei tempi era considerato gigantesco, non voglio entrare nei dettagli, il rivelatore era fatto di acqua con del scintillatore, il neutrino arrivando avrebbe fatto un positrone, il positrone si annichilava con un elettrone e dava due raggi gamma molto ben individuati e poi c'era il neutrone che zigzagando nel mezzo sarebbe stato catturato per fare un delterio dall'idrogeno e avrebbe messo un raggio gamma ritardato. Il complesso di questi fenomeni permettevano di essere sicuri che un neutrino era arrivato. Reins e Cowan nel 1956 effettivamente annunciano di aver osservato inequivocabilmente i segnali associati all'interazione degli antineutrini prodotti dal reattore e con una frequenza compatibile col calcolo di Bethe-Peyers, cioè non era fantasia, erano proprio i neutrini dell'interazione di Fermi. Il neutrino ha una particella come l'altra, però non nasce ancora la fisica del neutrino con questo esperimento che serve semplicemente a dimostrare che il neutrino esiste. L'era moderna della fisica dei neutrini comincia con i fasci di particelle, perché se io ho un fascio di particelle molto energico, con queste particelle, per esempio protoni, posso produrre un fascio di mesoni pi greco e i mesoni pi greco decadono in volo, se li faccio passare in un tunnel sottovuoto, decadono in volo e producono un buone e un antineutrino, a seconda del segno della carica del pione. Quindi diciamo alla fine del tunnel posso mettere un blocco di cemento, questo ferma tutte le particelle che non sono i neutrini e i neutrini continuano indisturbati e al di là del blocco di cemento ho un fascio fatto sostanzialmente di neutrini. Questo va d'accordo inoltre col fatto che la probabilità di interazione dei neutrini, come abbiamo visto dalla formula di Bete, cresce con l'energia, per urti relativistici cresce linearmente con l'energia e la probabilità di interazione di un neutrino in un metro cubo di materia comincia a non essere per niente trascurabile. Se voi avete energie dell'ordine del GEV, probabilità 10 alla meno 11, insomma si possono avere anche centinaia di migliaia di eventi di neutrino per anno. Quindi diciamo questo ha ampia in maniera fantastica la possibilità di usare i neutrini come delle particelle vere e proprie. All'inizio degli anni 60 a Brookhaven Lederman, Steinberger e Schwarz progettano di fare esperimenti di neutrini, di rivelare i neutrini con il fascio di pioni che si poteva produrre a Brookhaven negli Stati Uniti. Brookhaven è un laboratorio dove c'è una macchina a protoni, con i protoni si fa un fascio di pioni, i pioni vengono mandati in un tunnel di decadimento e producono un fascio di neutrini. nello stesso tempo Ponte Corvo che è ormai in Russia pensa più o meno alle stesse cose perché a Dubna si progetta di costruire un fascio di protoni da 800 mev e allora Ponte Corvo cerca di capire che ci si può fare con questi e sviluppa delle idee per osservare se il neutrino emesso nel decadimento del pione che è in associazione con un mu è lo stesso del neutrino di Fermi emesso nel decadimento beta. Ponte Corvo capisce che il segnale è che se questo neutrino è diverso da quello dell'elettrone, interagendo con la materia dovrebbe produrre solo buoni e non elettroni. Il fascio di Dubna non si realizzò e quindi Ponte Corvo non andò di là di una speculazione teorica, invece a Brookhaven si fa e lo strumento che permette a questi signori di fare l'esperimento e poi di prendere il premio Nobel successivamente sono le camere a scintilla. Un nuovo strumento per la fisica delle alte energie sono lastre di piombo, di ferro, credo ferro, a tensione elettrica, quando una particella carica passa attraverso negli spazi tra una piastra e l'altra, parte una scintilla e il complesso di queste scintille fotografate dà la traiettoria della particella e segnala che effettivamente una particella è passata. Questi sono rivelatori grandi, pesanti, appropriati appunto per interazioni di neutrini e sono l'inizio degli esperimenti su grande scala. Nelle lezioni scorse abbiamo visto i primi esperimenti fermi, Rutherford che usavano piccole sorgenti materiali redattivi, siamo arrivati invece a delle cose su grande scala. L'idea che appunto propugnava Ponte Corvo, ma anche T.D. Lee propose a Lederman, Mehl e Schwarz, è questa. Se voi avete un neutrino che viene da un disintegrazione beta, questo è il degadimento beta più che anche esiste, se questo neutrino rinteragisce con la materia alla tipo beta o tipo, se volete, Reince e Covan, produce un elettrone. Nell'esperimento di Renze e Covan era un antineutrino che produceva un positrone, ma è la stessa cosa, va bene? Però i neutrini di bassa energia non possono fare altro perché l'energia sufficiente per fare particelle nello stato finale, qui non c'è una grande differenza di massa, ma questo lo dovete creare dal niente e quindi vi ci vuole una certa energia e non possono fare altro, non ci sono particelle più leggere dell'elettrone. Ma se voi partite dal degadimento del pione, che va in un mu e un neutrino, questo neutrino può avere un'energia anche di svariati jeb e quindi avete la possibilità che in questa reazione non solo si produca un elettrone, ma si produca anche un mu. E quindi il problema è come si spartiscono le probabilità di produzione tra i due canali. Se nu mu è uguale a nu e dovreste vedere tutto, se nu mu è diverso da nu e dovreste vedere solo mu e non elettroni. Questo è l'idea dell'esperimento dei due neutrini. L'idea che ci fossero due neutrini e non uno solo è un'idea antica e Ponte Corvo riassume la situazione in un suo lavoro che presentò ad una conferenza sulla storia della fisica delle particelle molto più tardi, nel 1982. Ponte Corvo non poteva andare a questa conferenza, però abbiamo il suo scritto. E lui dice che già negli anni 47-50 tutte le persone che lavoravano nel campo avevano un'idea che questo neutrino che veniva fuori dal decadimento del mu potesse essere diverso da quello di Fermi e di Paoli. E lo chiamavano neutrino, neutretto, neutrino primo, eccetera. Era un'idea che circolava e era chiaro che appena ci fosse stata la possibilità di mettere questa idea alla prova sperimentalmente, l'esperimento sarebbe stato fatto. L'hanno fatto Lederman, Mel, Schwartz e Jack Steinberger. Questa è presa dalle trasparenze di questo bellissimo discorso di Dino Guglianos che a quel tempo era uno studente di questo gruppo e adesso sarà in pensione in questo momento, io l'ho conosciuto quando era professore alla Rockefeller University e ha lavorato nel gruppo che ha realizzato questo primo esperimento con i neutrini. Queste sono delle camera scintilla, vedete le lastre, le lastre verticali e vedete anche queste scintille che segnalano proprio la traiettoria di una particella. E in queste camera scintille, queste sono particelle, non so bene cosa, ma qui si vedono dei singoli muoni. Il muone si vede magnificamente perché ha una traccia di una particella penetrante che va dritta come una spada e si segnala qua. E quindi diciamo se il neutrino arriva e produce un muone in una di queste lastre, ebbè è buono e si vede. Se produce un elettrone si vede una cosa completamente diversa perché l'elettrone essendo una particella così leggera sciama e fa quello che si chiama appunto uno sciame e fa un segnale completamente differente. Quindi questo esperimento diciamo era difficile da mettere su ma aveva una risposta inequivocabile. Qui c'è, quando ho detto che comincia la big science, ecco questa era la big science degli anni 60, cioè dei rivelatori che dovevano essere trasportati con un camion. Quelli di Fermi si ricostruivano in laboratorio e li portavano in giro a mano. Questo invece è il trasporto delle camera scintille per andare per metterle in marcia. Questa è un bellissima poesia di Guglianos a Mel Schwarz e che dice sì lo so che il neutrino è difficile da acchiappare ma io prometto che il primo neutrino lo acchiapperò con i denti. E questa è la foto che accompagna la foto, si vede Guglianos e dietro di lui si vede la traccia di un buone che sembra che lui la stia acchiappando con i denti. Dino, catching e neutrino. Nel 1932, questi sono gli autori di questo famoso lavoro in cui osservano che i neutrini emessi insieme al buone producono solo buoni e non elettroni. Quindi diciamo ci sono due tipi di buoni, di neutrini distinti, uno associato all'elettrone e uno associato al buone. Vi ricorderete la tabella della materia che abbiamo fatto nella prima lezione, abbiamo visto la prima lezione, c'era un doppietto neutrino E e meno, adesso ce n'è un altro che è in tutto uguale, del tutto simile, così come l'elettrone, il mu è simile all'elettrone, è semplicemente una particella che non ha interazioni forti ma solo elettromagnetiche e debole, così anche il suo compagno neutrino è simile del mu, è simile al nu E. Solo che questo interagendo da mu e questo interagendo da E. Questa è la cosa. Nel tempo ci siamo accorti che c'è una terza famiglia che però è semplicemente una replica di questo, niente di nuovo sotto il sole. Nel 1976 Perle e collaboratori trovano evidenza di un nuovo leptone pesante, il tau che è in tutto simile al mu, solo, che ha una massa circa 200 volte più pesante e all'elettrone e ha pure lui il suo neutrino. Quindi diciamo queste particelle che chiamiamo leptoni si presentano in questo modo, ci sono tre leptoni carini e tre neutrini, ognuno associato a quello. Ecco, quindi questo è, diciamo, l'esperimento di due neutrini, lo posso riassumere così, diciamo, se io faccio una reazione nella quale si produce un elettrone e il neutrino che gli è associato, l'antineutrino, e poi dopo un po' questo antineutrino interagisce con la materia, la probabilità che questo faccia un e meno è 100%, e così la probabilità che se invece qui ho fatto un neutrino associato con un mu, questo riproduca un mu, anche questo è 100%, e così analogamente col tau. Quindi, diciamo, questa è la caratterizzazione di quello che oggi chiamiamo il sapore dei leptoni. Ogni leptone c'è il suo sapore e questi sapori non si parlano. Ma Ponte Corvo e poi anche Maki e collaboratori in Giappone dissero, ma se ci sono due particelle così simili come il neutrino E e il neutrino mu, e poi dopo anche il neutrino tau, in meccanica quantistica c'è un fenomeno che si chiama mescolamento. E questo fenomeno era stato introdotto da Cabibbo per i quor, l'angolo di Cabibbo, e Ponte Corvo spinto da questo dice, ma che succede se i neutrini hanno una piccola massa e si mescono tra di loro? Allora, quello che succede è che dovrei vedere delle violazioni di questa regola. Però Ponte Corvo si accorse che la scala di distanze sotto cui avviene una variazione, quella che si chiama un'oscillazione di neutrino in un altro, può essere una scala di distanze molto grande. Questo dipende dall'energia del neutrino. La scala di distanze sotto cui avviene la oscillazione è questo L che sta qui sotto e che dipende dalla differenza di massa dei due neutrini e dall'energia del neutrino stesso. E se voi mettete l'energia in Jev e la distanza in chilometri e questo in elettronvolt, se questa delta M è dell'ordine di una frazione di elettronvolt e l'energia è dell'ordine del Jev, che è l'energia del Brucheven, questa distanza è dell'ordine di diversi chilometri. E quindi l'esperimento di Leiderman, Schwartz e Steinberg non è significativo, perché vuol dire che loro non sono andati a delle distanze abbastanza lunghe da far sviluppare questo fenomeno. Naturalmente se avete i neutrini del Sole che hanno invece energie dell'ordine del Bev, beh, naturalmente queste distanze diventano ancora più grandi e se questo delta M è molto più piccolo dell'energia in volt, addirittura possono diventare dell'ordine delle distanze astronomiche. E questa è l'idea con cui Ponte Corvo propose di spiegare le oscillazioni, il deficit solare. Qui adesso ho voluto riportarvi gli esperimenti che abbiamo visto l'ora passata, GALAX e SAGE sono concentrati su neutrini di queste energie e invece questi sono concentrati su neutrini di energie più grandi. E questa è la tabella del deficit che vi ho detto e l'interpretazione di Ponte Corvo è molto semplice. Lui dice che nel Sole il neutrino è emesso insieme con l'elettrone, quindi è un neutrino E, però viaggiando potrebbe darsi che acquisti una componente neutrino mu. E quando arriva sulla Terra e interagisce con il mio rivelatore, la componente neutrino mu non può interagire perché dovrebbe fare un mu e l'energia non c'è per creare il mu e l'energia. Quindi vedo un flusso apparentemente inferiore a quello che è stato prodotto. Se 100 neutrini sono stati prodotti come neutrini E del Sole e quando arrivano sulla Terra 30 di questi si sono cambiati in neutrino mu, io dico che il flusso è un terzo di quello che avevo stimato. Questa è la spiegazione di Ponte Corvo. Naturalmente questa spiegazione vi devo dire che quando venne fuori fu presa per una cosa molto fantasiosa nella maniera migliore, perché la gente disse ma scusate basta aumentare di poco la temperatura centrale del Sole che io questo deficit praticamente sparisce, quindi è proprio una balla questa di Ponte Corvo. e la cosa è rimasta così a lungo finché questo deficit fu confermato da altri esperimenti e finché non si fece l'esperimento di Gallex, perché l'esperimento di Gallex il flusso lo sapete, perché il flusso è collegato alla costante solare e quindi non ci sono trucchi e inganni, se c'è una riduzione lì non ci sono questioni. E quindi dopo Gallex effettivamente la interpretazione come oscillazione ha preso di molto piede. Questa è la figura che aveva fatto vedere prima di Supercamiocante, quindi possiamo passare. Questa è invece una bella figura del laboratorio del Gran Sasso. Il laboratorio del Gran Sasso è costituito da tre sale sperimentali dentro le quali ci sono rivelatori di vario genere. Sopra la testa del Gran Sasso ci sono circa 1.400 metri di roccia, quindi il laboratorio è schermato dai raggi cosmici e, cosa che è dovuta alla intuizione di Nino Zichichi e questo va ricordato, queste sale sono orientate verso il CERN, per cui sono state predisposte fin dall'inizio per ricevere dei neutrini dal CERN, pensando proprio al problema delle oscillazioni dei neutrini. Però qui stiamo parlando dei neutrini del Sole. Gallex è sistemato dentro una di queste sale, questa è la casetta di Gallex. Gallex è un esperimento brillantissimo, ma è il più difficile da mostrare sperimentalmente a un uditorio, perché praticamente è una palazzina di cemento con dentro delle vasche, non è assolutamente ben illustrabile. E va bene, questo è Gallex. La cosa appunto caratteristica di Gallex che lo rende molto difficile è di vedere i neutrini di energia molto bassa che sono sensibili soltanto al valore della costante solare e insensibili al modello solare. Quindi diciamo Gallex è proprio un misuratore delle oscillazioni dei neutrini. però c'è un altro esperimento che è arrivato dopo Gallex e che ha messo il sigillo sulla questione che è SNO, Sudbury Neutrino Observatory in Canada. SNO è costituito da una grande sfera piena di circa mille chili, se mi ricordo bene, di acqua pesante, quindi di acqua in cui c'è una grossa frazione di deuterio. Non è ossigeno più idrogeno, ma in buona parte è ossigeno più deuterio e il deuterio permette di osservare delle reazioni molto importanti. Quindi avete questa reazione, il deuterio vi ricordo che è un protone più un neutrone, questa reazione in cui il neutrone arriva, trasforma il neutrone che sta qui dentro in un protone, quindi avete due protoni che escono e un elettrone. Questo elettrone fa una luce Cerenkov nell'acqua che viene rivelata e quindi vedete questo. Questa è esattamente la stessa cosa che si vede a Camio Kande, cioè è quello che chiamiamo corrente carica. Corrente carica perché nel passare dal neutrino all'elettrone la carica elettrica cambia di uno. Poi si vede anche questo, cioè il neutrino su elettrone, la diffusione elastica e anche qui c'è un cambiamento di carica, però la caratteristica è che questo può essere prodotto solo da un neutrino E, è famoso. Questo a prima vista sembrerebbe la stessa cosa, ma in realtà se lo guardate un po' meglio da un punto di vista quanto meccanico, anche i neutrini di altro tipo contribuiscono e il motivo è che ci potrebbe essere tranquillamente un cambiamento di tipo di neutrino tra qui e là. Infine, il motivo per mettere il deuterio è che potete vedere delle transizioni in cui non c'è cambiamento di carica, si chiamano correnti neutri. Il neutrino rompe il deuterio, il deuterio P più N, il neutrino si libera e dopo un po' viene catturato da un nucleo della cosa emettendo un raggio gamma e quindi la visione di questi raggi gamma segnala, e poi anche il protone segnala la presenza della corrente carica. E questa è cruciale perché se avete neutrini di tipo diverso, tipo NU-MU o NU-TAU, non c'è nessuna barriera perché questi neutrini possano interagire, perché non devono creare una particella di massa pesante. Quindi tutti i neutrini contribuiscono allo stesso modo e la sezione d'urto di questo oggetto è indipendente dalle oscillazioni. Quindi misurando questa reazione voi controllate il flusso vero e quindi se volete controllate il modello solare. Il risultato di tutti questi è riassunto qui. Il deficit è una riduzione del rapporto osservato previsto. Ma chi è il colpevole? Se voi avete un rapporto che è più piccolo di uno, potrebbe darsi che il flusso osservato sia minore del flusso in arrivo e questo è il fenomeno di Ponte Corvo, cioè alcuni dei neutrini che arrivano non contano perché non possono interagire. Se invece è il denominatore che è in fallo, per esempio il flusso previsto è più grande o più piccolo di quello, allora i neutrini prodotti non sono quelli previsti, il modello non è buono. GALLEX vede una riduzione, non dipende dal modello, quindi il denominatore è quello giusto e se vede una riduzione vuol dire che è il numeratore che è quello il colpevole, cioè ci sono le oscillazioni. SNO al contrario, per SNO il numeratore è quello che è, non è sensibile alle oscillazioni e quindi diciamo non devo vedere riduzione se il modello solare è buono. Quindi tutti hanno vinto, abbiamo un segnale che ci indica la bontà del modello, il segnale di SNO e un segnale che ci indica la presenza di oscillazioni. Quindi le oscillazioni le posso tenere da parte e a questo punto posso pensare che i miei neutrini sono la vera sonda per vedere l'interno di una stella e il fatto che il modello solare funzioni vuol dire che comprendiamo bene quello che succede nel centro del sole, i neutrini sono una sonda che ci dà una visione del sole in diretta, otto minuti dopo che sono partiti. Grazie. Abbiamo finito un po' prima. Sarebbe tempo per qualche domanda, discussioni? Qualcuno ha commenti? critiche? Osservazioni? Prego. Chiedo scusa, non ho capito bene una cosa. Mentre i neutrini ci danno l'immediatezza della situazione al centro del sole, ho letto lì che lei dice che l'energia del sole ci mette 10 alla quinta per arrivare. Ora, quando lei intende energia che esce dal sole, che cosa intende? Calore, fotoni o energia elettromagnetica? Se il Padre Eterno spegnesse il sole in questo momento, io me ne accorgerei circa 200 milioni di anni dopo, perché il calore ci mette un certo tempo per fluire dal posto dove è stato creato fino al... questo è. Mentre il neutrino arriva dopo 8 minuti. Quindi, in questo, diciamo, il fatto... se io ho misurato il neutrino dal sole a camiocande oggi, so che 8 minuti prima di quella misura il sole funzionava regolarmente, al centro del sole. E questo tempo così lungo è determinato da quelle azioni che ci hai fatto vedere di... La convezione, la cosa, eccetera, sì. Sì, signore. Quando la fusione finirà, però il sole continuerà ancora per un po' di tempo apparire come era prima, semplicemente perché è il calore che si sta diffondendo verso l'esterno. Sì, professore. Ma questi studi vengono condotti sempre con questo metodo della media varianza, però standard, praticamente. Cioè, quei valori, ho visto che sono i valori di media, mu e di varianza, ma sono standardizzati, ovviamente, o no? Non ho capito. Aspetta, eh. Questi? Eh. Beh, quando lei misura una cosa in fisica, questo c'è sempre un errore, perché i miei strumenti di misura hanno delle imperfezioni o delle cose, e quindi i fisici danno il valore medio, 0,33 più o meno 0,03, qui ci sono sempre due errori, uno è statistico e l'altro è sistematico, cioè quello statistico è quello statistico, cioè se io misuro una grandezza che dovrebbe essere 0,33 esattamente, in realtà il mio strumento qualche volta mi darà 0,33 e 1, 0,33 2, eccetera, e questo è l'errore statistico. Poi c'è un errore sistematico, cioè ci possono essere degli effetti che io non so quantificare esattamente, che potrebbero spostare il valore che io osservo rispetto al valore vero, che so. Se lei misura, per esempio, la posizione di una stella sull'orizzonte, misura un certo angolo, ma questo angolo è affetto da un errore, perché per esempio ci può essere l'atmosfera che turbolenza e quindi la diffrazione, cioè qui c'è un errore sistematico, che naturalmente io non so valutare, quindi dico, vabbè, però se c'è, sarà al massimo il 10%, ora metto più o meno il 10%. Qui ci sono due errori, questo è quello che si fa sempre in fisica, insomma. Sappiamo che le nostre misure non sono mai precise, questo è il motivo per cui in scienza la verità non c'è. Ma viene visto come campo continuo o sempre discreto? Viene visto? In campo continuo, vuol dire. Ma questi sono numeri reali, io mi aspetto che il risultato di una misura sia un numero reale. e quindi sarò dei numeri reali, continui. Se poi, anche perché i miei, proprio perché ci sono gli errori di misura, si è mati, eccetera, io un numero intero non lo vedrò mai. Mi verrà sempre, anche se, per esempio, misuro le righe dell'atomo idrogeno, le righe del Balmer, va bene? Sono delle righe quantizzate, cioè sono caratterizzate da un numero intero. Qui io dico, sì, questa corrisponde a n uguale 2, ma se io applico la formula alla posizione della riga, mi verrà che n è 2,001. Ad esempio, in astrofisica, ci sono delle grandezze cosmologiche che dipendono dal numero di tipi di neutrini, che io ho detto che sono 3, però questi numeri danno, dice, quanti sono? Dice, il numero da 3,02, perché i numeri interi non ci stanno, ci sono solo i numeri reali come risultato di una misura. Questa fluttuazione, come mai è così esatta, questa fluttuazione? Come esatta? Beh, mica tanto, come vede, sono delle misure al 10%. Non è il 30% che si è oltre. Beh, 0,03 rispetto a 0,33 è esattamente il 10%, quindi è una misura buona al 10%. Sono delle misure difficilissime, quindi diciamo, non c'è da stupirsi che ci siano degli errori. Però, insomma, sono degli errori, per esempio, 0,33, più o meno 0,03 non è compatibile con 1, non è 1, è una deviazione, se è un deficit vero, come costante. Non ho capito. Ma se lei misura il suo peso, sale su una bilancia, va bene? Cioè, vede l'indice. Adesso non so quanto lei pesi, ma insomma, diciamo, 75, però non è che gli viene 75,000 kg, no, viene 75,2 e poi se prende una bilancia un po' più precisa sarà 75,23 e prende una bilancia ancora precisa si accorge che è 75,231 e cioè è un numero che dipende dalla precisione dello strumento con cui lei lo misura. Però, insomma, sempre entro quelle cose là, quindi... Però non è né 10 kg né 100 kg, e quindi è un'informazione, diciamo, che ha un suo valore. In questo caso è un numero sostanzialmente più piccolo di 1, mentre invece io, se non ci fosse l'oscillazione e se il flusso fosse quello giusto, mi dovrebbe venire 1, e invece non viene. del Sole. No, perché questi numeri sono stati misurati, come vede, nel periodo dal 1970 al 1995 e più o meno veniva sempre fuori lo stesso numero. Questo è un valore medio, ma insomma, non c'è una variazione sistematica. Questo no, questo no. D'altra parte sarebbe ben strano che ci fossero delle fluttuazioni della produzione di neutrini dal centro del Sole su scala di qualche anno. Questo veramente sarebbe proprio incredibile. Non sono le macchine... I flerts del Sole in cima sono dei fenomeni atmosferici, come i nostri cicloni, ma lì dentro non c'è... Insomma, il tempo di variazione sono i milioni di anni. Quello è il tempo di variazione, quindi va bene. Ecco, volevo chiedere... Prego, dov'è? Sì. Abbiamo visto l'oscillazione dei neutrini provenienti dal Sole da elettronici a neutrini del muone, ma per quanto riguarda lo studio dei raggi cosmici, che viaggiano su distanze molto più elevate, è possibile osservare la transizione di sapore dal neutrino del muone a neutrino del tauone? Ma questo... Diciamo, aspetta. Usando i raggi cosmici si è vista un'oscillazione nu mu, nu tau, ma su scala di distanza che sono la dimensione dell'atmosfera. Sono i cosiddetti neutrini atmosferici. Cioè io vedo i neutrini che sono prodotti negli strati dell'atmosfera sopra la mia testa, oppure i neutrini che sono prodotti negli strati dell'atmosfera dall'altra parte della Terra. Quindi c'è una differenza di distanza dell'ordine del diametro della Terra, dell'ordine di 10.000 km. Quindi vedo delle variazioni, le attribuisco a un'oscillazione che è stata lunga 10.000 km. Diverso è il problema dei neutrini che vengono dai raggi cosmici. In linea di principio, questo non è stato mai misurato, ma ci sono delle idee, per esempio, che uno pensa che i neutrini dei raggi cosmici vengano sempre dai decadimenti dei pioni, però naturalmente viaggiando potrebbero produrre dei tau. La gente li sta cercando, ma non ci sono dati al momento. Forse li troveranno. Così dovrebbe essere, perché se il neutrino alla fine è una miscela di neutrini diversi, anche se su Andromeda parte come un neutrino mu, dovrebbe arrivare qui anche con una componente di tau. E l'energia c'è in abbondanza, e quindi dovrei vederlo. Noi abbiamo visto al momento l'oscillazione in un mu nu tau sul percorso Cern-Gran Sasso, è il famoso tunnel del Gran Sasso. Ci sono degli eventi attribuibili a dei neutrini che vengono dal Cern in cui si produce un tau. E quelli, diciamo, sono oscillazioni, quello non c'è dubbio. E quindi, similmente, dovrei vedere delle cose analoghe nei raggi cosmici di alta energia, però per il momento non sono stati visti. C'erano delle domande là sopra. Il primo numero è il rapporto, il secondo è la varianza sul rapporto, praticamente. Sì, il secondo è l'errore statistico e il terzo è l'errore sistematico. Ho capito. Perfetto, grazie. Noterà che nell'ultima riga l'errore sistematico non è uguale al più e al meno. Qui andiamo in finezze su cui non voglio, ne sono qualificato per rispondere. Prego. Io volevo sapere, quando noi parliamo di questa oscillazione, in pratica è stata ipotizzata per spiegare i dati sperimentali. Ma cosa stanno i dati sperimentali di questo deficit, in pratica? Non proprio, ma insomma. E allora? Diciamo, a livello fisico, cosa succede a queste particelle? Cambiano energia? Cioè, come si può spiegare questa oscillazione? Ah no, è un fenomeno di meccanica quantistica, cioè, se, diciamo, se i neutrini hanno massa esattamente uguale a zero, come si pensava un tempo, l'oscillazione non c'è. Perché avrà visto che nella lezione scorsa, no, qui, la formula, c'è una formula che collega la lunghezza di oscillazione alla differenza di massa. Se delta M è uguale a zero, L è infinito, cioè non c'è oscillazione. Va bene? Se c'è una massa diversa da zero, allora qui interviene la meccanica quantistica che dice che questa massa potrebbe non essere diagonale. vuol dire che se lei pensa a ogni tipo di neutrino come un oscillatore, vuol dire che io comincio a far oscillare l'oscillatore NU-E, ma siccome c'è un accoppiamento, dopo un po' si mette in oscillazione anche l'altro, e poi anche l'altro. L'energia di oscillazione va da una parte all'altra. E fisicamente questo vuol dire che un neutrino che parte come NU-E, poi dopo un po' ha una certa probabilità di apparire come NU-MU, poi ritorna NU-E, eccetera. E c'è proprio un'oscillazione con dei minimi, dei massimi e così via. E questo è. Quindi l'oscillazione dipende? È un fenomeno, diciamo, più naturale che non esserci. Per proibire le oscillazioni dovrei dire che la massa dei neutrini è zero. E questo, diciamo, meno male, non è così. La massa dei neutrini è piccola, ma c'è. E questo è. E questa è la spiegazione. Diciamo, noi lo vediamo nei quark questo fenomeno, è l'angolo di Gabibbo, e lì è perfettamente visibile, misurabile, eccetera. Ormai noi sappiamo quasi tutto. Abbiamo misurato questi accoppiamenti tra l'uno e l'altro, sono ormai determinati da questi numeri. Questi numeri qui si possono fittare con, facendo un modello della propagazione del neutrino in un'atmosfera, solare, e si possono fissare con degli angoli che sono gli angoli di accoppiamento tra un oscillatore e l'altro. E al momento attuale abbiamo una buona mappa della situazione. E molti esperimenti, ce ne sono tanti altri che sono coerenti, esperimenti terrestri, eccetera. Io non sono entrato nei dettagli, ma insomma, diciamo, il problema delle oscillazioni dei neutrini che non dico quando Ponte Corvo l'ha inventato, ma anche negli anni Ottanta era un fenomeno un po' esotico, ormai è diventata una cosa accettata e utilizzata. Forse se lo dice a voce alta facciamo prima che... Mi chiedo una cosa, se il neutrino è direzionale e io decidessi di costruire un reattore tipo 100 metri sotto terra per fare una bomba atomica, quindi qualcuno potrebbe rivelarlo? Non ho capito. No, se i neutrini vengono emessi da un reattore nucleare e io decidessi di costruire una bomba atomica e facessi tipo un reattore a 100 metri sotto terra qualcuno potrebbe rivelarlo, diciamo, questo potrebbe controllare questa cosa. Se lei fa una bomba atomica si vede in tanti altri modi non c'è bisogno di andare con i neutrini. Invece venne fuori tempo fa quando ancora io ero presente l'INFN un'osservazione analoga a quella che dice lei, cioè venne fuori un articolo che diceva ah, abbiamo capito perché l'INFN mette i rivelatori dei neutrini sul Gran Sasso perché così può controllare i sommergibili nucleari perché i sommergibili nucleari hanno un reattore e il reattore mette neutrini eccetera. abbiamo calcolato che un sommergibili nucleare doveva stare non so dieci anni arenato nella costa più vicina al Gran Sasso possibile per vedere un neutrino. I neutrini ce ne vogliono veramente tanti per vederli quindi non è consigliabile come metodo per vedere se c'è un sommergibili nucleare ce ne sono tanti altri insomma di metodi i neutrini sono molto pochi come dice Bete come dice Bete un neutrino singolo attraversa dieci anni luce di materia prima di interagire quindi diciamo ne dovete avere veramente tanti e dovete stare veramente molto vicini a un reattore per infatti Reins e Cowan erano a distanza dell'ordine di cento metri insomma dal reattore non è che se fossero stati a un chilometro non si idea niente questo è in breve prego no? va bene se non ci sono altre domande ci possiamo fermare qui allora ci vediamo tra una